Sui tavoli delle province lombarde, soprattutto in quelle del Cremonese e del Cremasco, continuano ad arrivare richieste di scavazione di nuovi pozzi da parte di aziende agricole che temono si verifichi quanto accaduto già lo scorso anno. Le probabilità che la grave crisi idrica si trascini sono molto alte, considerando che a meno di un mese dall'inizio della stagione in Rigua manca oltre un miliardo e mezzo di metri cubi d'acqua, ovvero il 60% in meno della media degli anni tra il 2006 e il 2020. Come è precisato durante il tavolo regionale per gli usi idrici in agricoltura che si è svolto nei giorni scorsi, la situazione è molto critica e l'escavazione di nuovi pozzi rischierebbe di gravare ulteriormente sulla falda. Abbiamo assistito e i dati dell'ARPA lo confermano un abbassamento della falda e questo proliferare di richieste di attingimenti di aziende, che lo fanno ovviamente per la propria azienda, quindi in maniera privata, rischia, se non governato, di dare un ulteriore colpo alla possibilità di usufruire anche di questo invaso che è dato dalle acque sotterranee. E quindi la proposta che è stata colta anche dalla regione Lombardia di mettere in piedi un tavolo con le province, perché sono le province l'ente istruttore delle richieste di concessioni di pozzi, per fare un'azione coordinata, soprattutto con i consorzi di bonifica, laddove potrebbe essere più proficuo un pozzo consortile, anche perché così verrebbe meno se ci fosse una proliferazione di pozzi incontrollata, anche proprio la storia dell'irrigazione collettiva che caratterizza la pianura cremonese come tutta la pianura lombarda. Abbiamo chiesto anche di avere un quadro dettagliato e lo avremo disponibile spero nei prossimi giorni, però soprattutto nelle zone che hanno più sofferto, che sono le zone dell'altro cremonese, del cremasco, è lì che si concentra la richiesta di pozzi.